Giornate di presentazioni, quella di oggi in casa è la Sverona, infatti nella giornata di oggi 19 gennaio 2024 svolgeranno le visite mediche ben tre giocatori che fondamentalmente andrebbero a sostituire andranno a sostituire Faraoni, Doig e Ngonge e partiamo dal primo Ruben Vinagre che secondo me è la più grande scommessa delle tre, terzino sinistro classe 99 che ha proda dello Sporting Lisbona in prestito con un ditto di scatto di un milione di euro e perché la definisco la più grande scommessa? Perché fondamentalmente nelle ultime stagioni ha giocato veramente poco l'ultima stagione con una discreta continuità l'ha avuto nella 2021 con il Famalisao però comunque è un giocatore che a livello di caratteristiche rappresenta il classico terzino sinistro portoghese quindi grande spinta, grande corsa, alto 174 cm, un normolineo tendente al brevilineo che a livello di caratteristiche potrebbe essere molto utile al Verona adottando appunto questa difesa 3, a volte difesa 4 ma lui è più un quinto, come caratteristiche è più un quinto che un quarto ripeto, il classico terzino portoghese che spinge, spinge, corre e niente più ha delle buoni doti offensive ovviamente secondo me pecca un pochino in quelle difensive ma fondamentalmente a lui adesso serve continuità la domanda che mi pongo è è un giocatore che ti può garantire continuità quando comunque negli ultimi anni non l'ha mai avuta? ripeto, è una scommessa, sicuramente a basso costo perché ripeto, approda a Verona in prestito condito di scatto un milione di euro una cifra non alta che a livello di caratteristiche è diverso da DOIG appunto soprattutto a livello fisico però doti interessanti potenzialmente funzionali bisogna vedere, ripeto, il suo processo di adattamento come andrà in Italia e soprattutto se riuscirà a trovare questa continuità arrivando a Verona al posto di DOIG presumo che potrebbe fare inizialmente una riserva per poi magari eventualmente nei mesi a venire guadagnarsi un'attitualità e magari giocarsi la conferma per la stagione 24-25 ripeto, per me è la più grande scommessa secondo giocatore che effettuerà le visite mediche Josef Sisse svedese che verrà prelevato è stato prelevato al Malm per 600-700 mila euro un giocatore che in Svezia ha giocato veramente in più squadre come al Dalkurt come all'Helzimburg e che ha avuto un'esperienza all'estero nell'extraclasa ha giocato abbastanza nel Malm non sempre attuarissimo però comunque si è fatto il suo minutaggio lui è un classe 98 fisicamente molto diverso rispetto a Minagre è alto 1,84 e ha una duttilità molto più interessante a lui fondamentalmente nel Malm ha giocato in più ruoli come terzino basso a 4 come braccetto di destra in una difesa 3 e come esterno di destra nel 3-4-3 perché comunque Rydstrom il tecnico del Malm adotta prettamente questi moduli il 3-4-3 a volte ha utilizzato il 4-2-3-1 però insomma Rydstrom appunto è specializzato nel 3-4-3 e in questo caso si è avvestito questi due ruoli da braccetto di destra in difesa 3 e soprattutto come esterno di destra in questo centrocampo a 4 e ha delle belle doti cioè nel senso ha un buon bilanciamento tra doti difensive e doti offensive come doti difensive soprattutto a livello di posizionamento anche perché non è il classico difensore di grinta che ti va sull'uomo e queste cose qui è un difensore è un giocatore molto tattico quindi cerca lo spazio ha veramente una bellissima corsa quindi può dare quello sprint e quella fisicità che comunque aveva anche Faraoni forse addirittura anzi sicuramente sì se è anche superiore in confronto a Faraoni però appunto questa sua dottilità è un qualcosa di molto interessante e soprattutto voglio sottolineare una particolta tattica lui è vero che gioca come esterno destro in un centrocampo a 4 ma chi gli copre le spalle è un certo Beimo chi lo ricorderà chi lo conoscerà era uno dei più grandi scommessi dei più grandi dei più grandi wonder kid nel calcio svedese si è un po' arenato ma lui ad esempio è nato come terzion di destra ma veramente di grandissima spinta quindi il fatto di avere un Beimo dietro svincola diciamo così un po' si se dal lavoro difensivo quindi molte volte si vede si se andrà avanti o meglio stare avanti anche perché poi di solito il ruolo di attaccante esterno di destra lo ricopre Bergett che comunque lui è nato fondamentalmente come trequartista quindi c'è questo gioco di posizioni al Malm sicuramente nel Verona easy che potrebbe fare l'esterno destro centro campo eventualmente quando magari bisogna un po' più attaccare lo si può mettere anche come esterno di destra difensivo io ho difesa 4 però lui a livello di caratteristiche potrebbe essere molto funzionale al Verona sarà molto funzionale al Verona secondo me ma è già un profilo un po' più formato un po' più esperto rispetto a Vinagre Vinagre proprio non lo so ripeto è veramente una scommessa non per questo appunto si se arriverà al Verona a titolo definitivo e dovrebbe costare sui 600-700 mila euro quindi un acquisto a titolo definitivo altro giocatore che molti di voi avranno letto in questi mesi è l'Eistaf Shand del Neck Niemegen lui è una storia che parte da molto lontano da molto lontano esattamente dal dicembre 2021 esattamente il 6 dicembre 2021 io vi feci il video di presentazione di l'Eistaf Shand quando giocava sempre nel Neck Niemegen ma che è con il campione divisa e quindi nella seconda serie dell'Olanda perché già era vicino al Verona si era parlato già di lui quando vi era ancora Tudor adesso invece all'epoca aveva il contratto di scadenza nel 2023 poi ha rinnovato il contratto fino al 2024 fatto sta che adesso il giocatore va in scadenza il Verona aveva già trovato un accordo per il giocatore a zero semplicemente con i soldi incassati e le vere cessioni il Verona pagherà un milione di euro a Neck Niemegen e preleverà da subito e le istav un giocatore che negli ultimi due stagioni ha fatto una bella esperienza perché con Neck Niemegen dalla che è un campione divisa è stato promosso in le divisie e si è confermato anche a livello numerico un giocatore di circa 180 cm una bella corsa sul breve e farebbe lo stesso gioco che fa Nonge scusa che farebbe Nonge Nonge è un altro giocatore della Juventus appunto 180 cm una bella corsa un esterno destro a piedi invertito fondamentalmente quella su collocazione tattica sa utilizzare discretamente il destro comunque per una spiegazione un po' più approfondita vi invito a prendervi il video andare a recuperare il video anche se un po' vecchiotto ma al giocatore comunque esattamente rimasto quello a livello di caratteristiche che comunque ha questa doppia giocata diciamo così quindi se andare sul destro o andare sul sinistro lì fondamentalmente sinistro diciamo che come utilizzo fa 80% al sinistro 20% al destro utilizza il destro più di un mancino naturale ma comunque lo utilizza non tantissimo ha un discreto feeling con il gol e la cosa importante è che è un'ottima esperienza da titolare con Iñak Niemegen perché fondamentalmente lui è titolare in Olanda quindi prendere un ragazzo del 2001 perché è il più giovane tra Vinagre e Sisee e lui ovviamente è il più giovane già ha un'ottima esperienza in Olanda che comunque è un campionato anche discretamente formativo ecco qui è un acquisto che all'85% reputo molto 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 buono per il Verona perché l'esborso economico è basso un milione di euro per un giocatore per un giocatore 2001 che ha un'ottima esperienza in Olanda e negli ultimi due anni anche nelle divisie che ha un buon numero di gol ha un buon numero di assist e sicuramente potrebbe risultare funzionale sia nel ruolo di trequartista di destra diciamo così che eventualmente anche come punta come punta magari un po' più forzata come cosa perché lui fondamentalmente ripeto è un'ara ma la media di gol che ha realizzato come punta non è assolutamente male quindi tipo su 50 partite ne dovrebbe aver realizzato a memoria circa 17 quindi sebbe avrebbe questa tuttilità che per Broni potrebbe essere funzionale sicuramente Ngonge era un giocatore importante e quindi devi istituirlo con un giocatore altrettanto importante ora Kitafshan sicuramente sarà un giocatore importante difficilio dirlo ma sicuramente ha le qualità necessarie e sufficienti per dire la sua a Verona ho voluto fare questo video un po' riassuntivo perché altrimenti avrete dovuto fare tre video presentazioni uno dei quali sempre è stato un reprise di un video un po' vecchio però volevo appunto condensare il tutto per realizzare un contenuto stringato breve e molto più fruibile per farvi capire insomma chi sono i nuovi prospetti i nuovi giocatori dell'Elas Verona fatemi sapere ovviamente qui sotto nei commenti le vostre impressioni vi mando un bacione e ciao al prossimo video ciao ragazzi grazie a tutti grazie a tutti